Ciao a tutti! Eccoci qua, dopo una giornata passata a parlare delle cartucce B&P, finalmente è ora di provarle, non vedevamo l'ora, quindi abbiamo il nostro esperto di balistica Gianluca che ha scelto le Sporting HV e la National, abbiamo Enrico, il nostro campione che ha scelto le Sporting HV e le Flash e io che invece vado di National, perché ragazzi quest'anno è l'anno della National, mi raccomando! Oh! 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 Eccoci qua, abbiamo finito la nostra gara con Gianluca ed Enrico. Chi avrà vinto? Eh, lo scoprirete solo se andate qua. Segui, che avrà vinto? Di 3, 2, 1, 2, 1. Ero! 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 Ero!